Il brano che avete appena ascoltato con la chitarra è la colonna sonora del film Il Bostino, scritto da Bacaloff che vinse il premio Oscar come migliore colonna sonora. Questa è una chitarra classica, uno strumento cordofono formato da 6 corde principalmente di nylon. La tecnica della chitarra classica prevede il tocco della punta del dito della mano destra contro la corda per metterla in vibrazione, mentre le dita della mano sinistra vanno a pigiare sul manico per produrre il suono. È formata da due parti, è il manico su cui si trova la tastiera, che termina con una paletta la quale ospita le meccaniche per l'accordatura. Poi una cassa di risonanza in legno con una puga centrale, utile per amplificare il suono prodotto dalle corde. Lo studio della chitarra richiede sicuramente tanto tempo e tanta dedizione, ma è considerata anche come una valvola di sfoco, un modo di esprimere i propri sentimenti senza vincoli. Ma vi assicuro ci si diverte anche. Scegli anche tu la chitarra, non te ne mentirai.